La mamma è in paradiso. Non può essere andata via così senza neanche salutarmi. Non respiro, mi fa male il cuore. Allora aprile la cassa, va bene? Vediamo se c'è. Fai bei sogni. Si calmi, ha un attacco di panico. E lei che ne sa? Sono un medico. Si sta male di nuovo? Telefoni a un amico. Una persona che le avvicina. Puoi essere lei questa persona? 12. 12. 12. Gli altri erano importanti per lei. Forza. Ma non ti piace vivere pericolosamente? Dilla, anche tu una stronzata ogni tanto, no? Invece niente. Com'era bella. Così piena di gioia. Non sai quanto la vado. Come è morta mia madre. Mamma, mamma dove sei? Mamma, mamma, dove sei? Ma come vi siete permessi? Lasciala andare. La scim... Ela arrangementse. Versura. Lo ovo.